Chi sei tu? Eh, io sono... Oh! Ragazzi, ciao a tutti! Allora, innanzitutto, se trovate questo po' che hanno blu in tutto il video vi saluterà, appunto, saluto... Andrea Strinati! Ma comunque sia, io oggi devo andare a casa di Bibbira, perché oggi dovevo uscire e finalmente faremo tante, tante cose, tipo, non lo so, perché, onestamente, non so che cosa faremo, però, intanto andiamo a casa sua! Ciao, Bibbira! Ciao, striserino! Allora, va bene, stiamo uscendo, va bene? Va bene, però, io mi sto guardando la televisione! Ma, papà, ma, vedi che, aspetta la televisione! È vero, aspetta! Oh, andate via, vi prego, andatemi vedere la televisione, aspetta! Perché è così tanto strano il tuo nonno oggi? Mio nonno è sempre strano, striserino! Ah, cavolo, è vero! Vabbè, cosa ti vado a fare, Bibbira? Eh, non lo so, io, striserino, tipo, possiamo fare tante cose oggi! È vero, però non so cosa fare, che cosa facciamo? Eh, non lo so mai, andiamo da questa parte, intanto, tipo, possiamo andare nella cisterna? Non possiamo, perché? Vabbè, l'ha distrutto! Come l'ha distrutta? A me ha detto che l'ha distrutta lui! E allora, sai che cosa giochiamo? Giochiamo a suonare e scappa! Come si gioca? È semplice, striserino, dobbiamo suonare per scappare! Guarda, vuoi provare? Oh, ok! Ok, striserino, scappa, scappa, scappa! Cosa? Eh, ma chi è stato? Oh, mio Dio, sbriser, ma perché sei così tanto piccolo? Scusami, scusami un attimo, scusami un attimo! Allora, sono sbriser, io sto dietro appunto a sbriserino, nube, sbriser, ovviamente! E tutti i personaggi, insomma, tranne senza essenza, senza essenza! Comunque, a parte questo, volevo solamente informarti di seguirmi su Instagram, ma ti prego, seguimi su Instagram, che ho già speso del tratino basso! Guarda qua, è questo! E poi, guarda che carino questo cavolo di logo! Guarda, faccio così e si muove! Ma ti rendi conto? Cioè, questa sì che è editing! È veramente bello, ma comunque è ancora più bello se tu mi seguis su Instagram, perché appunto pubblico un casino di storie! Davvero tanto! Eh, sì, sto perdendo tempo, vero? Scusami, eh, eh, ci mettiamo sulle storie di Instagram, ci conto! Questo non è editing, mi sono abbassato davvero io! Eh, cosa? Ma ho sbagliato qualcosa! Sbriserino, dove mi correre? Per quale motivo te ne sei stato fermo in palata immobile! Eh, no, no, lo sapevo io! Sbriserino, ti va di entrare un attimo in casa? Oh, ok! Va bene, sconosciuta! No, aspetta, c'era la mia amica qua fuori! Eh, eh, di cosa stai parlando? Eh, della mia amica! Sbriserino, aiuto, fammi entrare, fammi entrare! Eh, eh, ma non so di cosa tu stia parlando, guarda, ti faccio vedere, ti faccio vedere in casa mia! Eh, non lo so, però non ti conosco, chi sei tu? Eh, io sono... come? Sbriserino, la vuoi finire? Tu sei Sbriser, no? Eh, non sono Sbriser, sono suo figlio! Ma ti prego, ma da quando in qua Sbriser ha un figlio? Oh, dai, attento, onestamente, da qualche mese, io sono suo figlio! Eh, già che riesci a parlare in questa maniera è stranissimo che, appunto, tu sei suo figlio, cioè nel senso se sei suo figlio da qualche mese non riusciresti neanche a parlare. Ma, appunto, io ho cinque anni! Ah, allora ti ha adottato? Comunque, dai, Sbriser, finisci, lo so benissimo che sei tu, che pozione hai bevuto, hai bevuto qualche pozione? No, sono Sbriser! Ah, sì, va bene, come vuoi. Eh, ascolta, Sbriserino, non è che vorresti, non lo so, qualche biscotto? Ah, sì, ti prego, qualche biscotto! Oh, mio Dio! Mi hai dato quelli buoni! Eh, sì, sono proprio quelli geliziosi. Oh, ti ringrazio un sacco! Allora, ti piace uno Sbriserino? Sì, sono strappurissimi! Ah, sono contenta. Comunque, se vuoi, possiamo fare altro, tipo, non lo so, vuoi fare qualcosa? Eh, tipo, non lo so, devo andare, scusa! Eh, no! Cosa no? Tu non te ne vai, dobbiamo giocare! Come dobbiamo giocare? Mi voglio dare delle tante, bimbina! No, ma Sbriserino, dobbiamo giocare, dai! Facciamo qualcosa, giochiamo a dama, oppure ad un puzzle, cosa ti fa di fare? Ma no, io devo tornere! Eh, ma dai, ti prego, dai, vieni qua sopra, dai, magari trovo qualche gioco da tavolo. Ascolta, signora, che non conosco! Mi chiamo chi nomi, Sbriser? Dai, sei tu! No, io sono Sbriserino! Sono il figlio di Sbriser! Non sono! Dai, finisci la Sbriser! Mi raccomando, non bere più la pozione che ti sei bevuto per diventare piccolo! Ma io sono Sbriser! Dai, Sbriser! Dai, ci chiamo a qualcosa! No, io voglio, voglio andarmene, aprimi questa porta! No, dai, dai, giochiamo, giochiamo tipo, che ne so, a risico, ti piace il risico? No, io voglio andarmene, me ne fai andarmene, ti prego, voglio andarmene a casa, voglio andarmene da, da, dalla bimbina! Ah, Sbriserino! Oppure, devo chiamarti in questa maniera, sicuro che devi andartene! Mi hai convinto, resta solo un po'! Ok, va bene, ho sistemato la tomba per Lucky, comunque, voglio seriamente vedere se effettivamente è come dice Noob, che c'è un modo per suscitarlo, ma non credo proprio! Spark, ascolta, sto andando a dormire sul divano, non disturbami, va bene? Non abbagliare, Spark! Ah, finalmente un po' di riposo! Eh? Oh, sciabolette, ma l'ho chiesto troppo! Bimbina! Eh, scusami, Sbriser, non è che potresti andare dal tuo figlio? Ma cosa? Che significa? Chi ha Sbriserino? Eh, è praticamente sto dietro ad uno che si chiama Kinomi! Cosa? Kinomi, oddio! Oddio, spostati, 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 bimbina! Andiamo a mandare subito da Sbriserino, quella ragazza è stranissima, ormai, io era mia ex! Ah, sei nei guai? Eh, un po', sia io che Sbriserino, o sciabolette, come dobbiamo fare? Allora, Sbriserino, ti va di sentire qualche musica? Va bene, va bene! Oh, che bella questa musica! Ah, lo sapevo che ti piaceva! Oh, sciabolette, stanno ascoltando musica! E quindi se io suono non mi riesce a sentire! Oh, sciabolette, bimbina, siamo nei guai! Oh, dai, come possiamo fare, Sbriserino? È intenziale, è dentro, come possiamo fare? Non lo so, non riesco a vedere niente da qua dentro! Bimbina, dobbiamo fare qualcosa, aspetta! Aspetta, posso andarsito a questa parte! Oh, dove sei andato? Eh, lascia perdere! Prendi questa mela, non lo so se ti piace! Oh, io voglio venire con te, Sbriser! No, non venire con me, devo fare un po' di parkour! E tu sei troppo piccola per farlo! Bimbina! Oh, ovvero, ok! Ok, aspetta un attimo, magari, se faccio in questa maniera... Perfetto! Ok, bimbina! Vai, Sbriser, vai! Ok, perfetto, da quando è qua? Hai installato comunque questa cavolo di finestra? Vabbè, è strano questa cosa! Perfetto, sono dentro! Vai! Vai, aspetta! Oh, ma come si bella questa musica! Si bella in questa maniera, se mi si ricorda! Ah! Ferma! Ah, ok! Ah, ma cosa? Allora, è vero che quello è il tuo figlio? Sì, è mio figlio, e in più lei è la sua ragazza! Eccomi qua, Sbriserino! Ah, sono, 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 sto, sto bene, sto bene, Bimbina, stai tranquillo! Ah, ma non lo sapevo che allora avevi un figlio, Sbriser, e pensavo che fossi tu preso da una pozione! Ma che cavolo sta dicendo, chi nomi? Ma esatto, ma perché questo, lui, è il mio ragazzo, quindi si punta giù le bagnacce! Vai, Bimbina, vai! Sbriser, andiamo, ce ne vi anche tu, papà! Chi nomi, stai lontano dal mio figlio! Ok, scusami, Sbriser! Oh, sciabolette! Ragazzi, state bene? Sì, sta benissimo! E tu, Sbriserino? Sì, papà, sto bene, grazie! Andiamo! Dove andate? Andiamo vicino! Eh, ciao! Ok, va bene! Oh, sciabolette, ma chi nomi proprio è stata una pietra sul piede, mannaggia a lei! Cioè, che cavolo voleva, Sbriserino? Pensavo che fossi realmente io! Devi informare assolutamente a Dolcetta di questa cosa assurda! Dolcetta? Eh, ciao, Dolcemi, sei veloce! Eh, praticamente sai che Kinomi ha preso nostro figlio! Eh, no, 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 aspetta, aspetta, aspetta! No, stavo scherzando, Dolcetta, stavo scherzando! Stavo scherzando! Oh, mio Dio, perché non ci ho pensato che poteva ragionare in questa maniera, Dolcetta? Dolcetta, ti prego, stati ferma! Statti ferma, Dolcetta! No, non ti apre! Non aprire, Kinomi! Oh, mio Dio, meglio se chiudo! Esatto, chiudi, Kinomi! Oh, no, stavo l'esce! Ma perché mi copiate tutte le battute? No, Dolcetta, come fa ad essere così tanto brava, Dolcetta? Riuscire a trovare le vie di parkour al primo colpo! Meno male che però non si è esperta quanto me nel parkour! Dolcetta non riesce al primo tentativo, po' euro! Oh, mio Dio, sono nei guai! Oh, stavo l'esce, c'è l'uscita! Kinomi, scappa, Kinomi, scappa! Eh, sta dentro, sta dentro casa! Eh, ma come? Oh, mio Dio, meglio si scappa! Eh, sì, scappa, 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 Kinomi! Sciamolette, ci vediamo nel prossimo video! Ciao a tutti! Oh, sciamolette, mio! Ciao a tutti! Grazie a tutti Grazie a tutti